L'LPR Volley Piacenza agguanta la Final Four dei play-off per il quinto posto, formula che vale l'accesso all'Europa. Battuta 3-1 Latina in gara 3, ma ieri al Palabanca è stata soprattutto la giornata della festa per due mostri sacri della pallavolo italiana e piacentina che a fine stagione appenderanno le scarpe al chiodo, Samuele Papi e Risto Zlatanov. Il Palabanca ha omaggiato i due grandi giocatori con un'ora di spettacolo ed emozioni che hanno commosso anche due giganti di questo sport che di sconti agli avversari in tanti anni di carriera non ne hanno fatti. Zlatanov e Papi hanno scritto la storia di questo sport e ieri sono rimasti quasi senza parole di fronte all'affetto del loro pubblico. Sensazioni molto belle, una festa bellissima, ringrazio tutti, dalla società, dai tifosi, tutte le persone che sono intervenute oggi. Ormai è ufficiale, quindi c'è anche un po' di amarezza, però doveva arrivare, è arrivata, ma sono molto contento per questa festa. Quando si dice la parola alla fine è una storia sempre dura. Ho resistito fino alla fine, ma alla fine ho ceduto. Senti, ti hanno offerto un posto in società, ci stai pensando? Questo l'avete sentito voi. Io lì per lì non pensavo, cercavo di trattenere l'emozione. Se è vero sicuramente ne parliamo e sarò la persona più felice da accettare.